Da almeno una settimana dai rubinetti di scicli l'acqua esce giallastra ed emana un odore nauseabondo. Era successo, già Donna Lucata succede adesso in alcune zone del centro storico. Le foto che vi stiamo mostrando sono state scattate all'interno di un'abitazione di via Rosario, quindi in pieno centro. Decine i commenti sui social è una situazione, dicono in molti, che si ripete ormai costantemente. Ogni quavvolta piove, ma non serve un'alluvione a causare ciò, basta un po' di pioggia. Nonostante il problema perduri ormai da giorni, dall'amministrazione non è arrivata alcuna nota ufficiale a spiegare le ragioni della problematica o quantomeno a mettere in guardia i cittadini sulla non potabilità dell'acqua comunale. Acqua torbita a scicli, scrive un cittadino su Facebook. Il nostro sindaco non fa nemmeno un comunicato. Pretendono che noi cittadini paghiamo l'acqua profumatamente. Nel 2018 vediamo auto che si trasformano in aeree, mentre Scicli non ha un depuratore che pulisca le condotte in maniera efficace. Eppure le bollette erano talmente elevate che potevamo pretendere che l'acqua uscisse anche frizzante.